Professor Cipolletta, che legame esiste tra le politiche per l'ambiente e la crescita economica? Le politiche per l'ambiente innanzitutto sono necessarie per una crescita economica sostenibile, perché se no noi ci troveremo in situazioni di forte decrescita proprio per motivi ambientali. Ma bisogna anche ricordare che le politiche per l'ambiente porteranno a delle innovazioni molto forti in tutti quanti i campi per introdurre la variabile ambientale. Queste innovazioni sono quelle che producono la crescita. La crescita economica di un paese sviluppato non si fa perché uno consuma un po' più di cravate, di camicie o quant'altro, ma si fa attraverso innovazioni che cambiano tutto l'apparato dei nostri beni e dei nostri servizi e che ci consente al paese di crescere. Quest'anno sarà ricordato da tutti come l'anno del Covid. Un festival dell'economia su ambiente e crescita in un anno così particolare vuole essere un messaggio per indicare le direttrici da seguire per uscire più forti dalla crisi coronavirus? Sono convinto che ci sarà l'occasione per farlo perché il problema ambientale come quello del Covid sono problemi transnazionali, sono problemi di carattere internazionale che vanno affrontati con delle politiche internazionali e dei comportamenti che sono uniformi e omogenei dappertutto. E questo è qualche cosa di molto importante che credo che verrà ribadito anche durante il festival e quindi darà una mano anche all'uscire da questo Covid. Il Trentino tra i territori italiani è tra i più virtuosi sul tema degli investimenti in sostenibilità. Ci sono secondo lei però dei settori nei quali bisogna aumentare gli sforzi, l'impegno per diminuire l'impatto ambientale? Sicuramente abbiamo ancora degli sforzi da fare nel campo del trasporto. Sicuramente il Trentino è attraversato da un'autostrada e questa autostrada è sicuramente portatrice di danni ambientali in qualche misura. So che si stanno facendo molti lavori ma credo che sia opportuno continuare a fare su questo. Vale lo stesso per la raccolta dei rifiuti e per tante attività che ancora devono essere meglio organizzate anche in Trentino, anche se il Trentino è ben più avanti di altre parti del paese. Per rafforzare il legame tra crescita e ambiente un ruolo cruciale lo gioca il tessuto educativo e accademico. Quale può essere quindi questo ruolo che scuole e università devono esercitare? La sfida ambientale è una sfida innanzitutto di innovazione perché non si può affrontare il sistema ambientale, la difesa dell'ambiente con le tecnologie esistenti. La nascita delle tecnologie è la ricerca, la ricerca è l'università, è la scuola, è la formazione. Il legame è molto forte, molte università stanno già lavorando in questo ambiente. Io sono convinto che se le imprese e lo Stato investiranno nelle università e nella scuola sicuramente questo sarà anche un investimento favorevole all'ambiente perché la ricerca di base è la parte iniziale importante per poter trovare le tecnologie più adatte. Il dibattito politico nazionale delle prossime settimane e dei prossimi mesi sarà necessariamente incentrato sul modo di allocare, cioè di distribuire i fondi del Recovery Fund. Il Festival darà anche un contributo sul modo migliore per usare queste preziose risorse? Spero di sì e sono convinto che parleremo anche di questo perché è la sfida di domani. Apparentemente non ci sono problemi di ordine finanziario, ma questo non vuol dire che tutto è semplice, bisognerà individuare quelli che sono i settori e le procedure e le tecnologie da portare avanti per poter far fare al Paese quel salto in campo ambientale, ma anche in campo della crescita, che gli consente poi domani di ripagare il debito che si sta accumulando. Quindi dal punto di vista del Festival sicuramente ci saranno indicazioni su quali sono i progetti migliori da portare avanti in questo caso.